Spesso mi chiedono cosa cerco in una fotografia. La verità è che da un po' di tempo non cerco più nulla. Semplicemente ci metto dentro tutte quelle cose che hanno segnato la mia vita. I libri che ho letto, i viaggi che ho fatto, i film che ho visto. Il cinema è la mia più grande passione e senza dubbio è quella da cui attingo di più. Ecco, dovendo scegliere, mi piacerebbe che le mie fotografie fossero autentiche come Pasolini. Senza tempo come un film di Bergman, eleganti come Mastroianni ed emozionanti, come le note di Ennio Morricone. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info